Salve a tutti. Oggi vorrei parlarvi di una delle opere prime più straordinarie del cinema italiano e mondiale. Quando all'inizio degli anni 60 arriva a girare il suo primo film, Pierpaolo Pasolini è un nome ben noto nell'ambito della cultura come poeta, come critico e giornalista, ma soprattutto come romanziere. Nel cinema era entrato attraverso il ruolo di sceneggiatore collaborando a film di soldati, di Fellini e di Bolognini. Dei risultati che vede sullo schermo, però Pasolini non è quasi mai soddisfatto e in molti casi vive la trasposizione delle sue sceneggiature come un tradimento delle sue intenzioni. Per questo sente ad un certo punto la necessità di girare in prima persona e avere un controllo totale sulle storie che vuole raccontare, ma c'è qualcosa di più che lo spinge verso il cinema ed è la sua immediatezza, il suo essere lingua universale che si esprime attraverso le immagini. Pasolini era inesperto tecnicamente, ma aveva delle idee molto precise su come voleva realizzare il suo primo film dal punto di vista visivo. Si affida quindi a Tonino Dell'Icolli che sarà il direttore della fotografia in quasi tutti i suoi film e al giovane aiutoregista Bernardo Bertolucci. Federico Fellini che doveva essere il produttore del film fa girare a Pasolini due scene dopodiché abbandona il progetto dicendo questo non è cinema, a che Pasolini replica certo non è il cinema come lo intendi tu. Il film verrà poi prodotto grazie all'intervento di un altro regista Mauro Bolognini, ma quello che emerge analizzando il film è che a differenza della maggior parte dei nuovi registi di quegli anni che cercano nel cinema i propri riferimenti stilistici. Pasolini prende ispirazione soprattutto dalla pittura, dalla tradizione artistica italiana del 300 e del 400, da Masaccio in primo luogo. Questo dà al film un'originalità nello stile e nel modo di riprendere i personaggi che lo rende unico e personalissimo. Se proprio vogliamo cercare dei riferimenti dal punto di vista registico li dobbiamo cercare nel cinema muto, in Dreyer, in Eisenstein, in Chaplin, autori che Pasolini stesso cita come fondamentali nella sua formazione. C'è qualcosa di grezzo, di primitivo nel modo di accostarsi ai soggetti che rimanda alle origini del linguaggio cinematografico, inteso come rapporti fra le immagini. In questo primo film Pasolini reinventa il neorealismo, lo amplifica, possiamo dire che lo trasforma in iperrealismo e lo adatta a una nuova società che non è più quella del dopoguerra, ma è l'Italia che si è avviata verso il benessere e il consumismo. È l'Italia della televisione che inizia ad uniformare la cultura, a omologare il linguaggio e il pensiero. Quell'omologazione culturale e sociale di massa che oggi è realtà era per Pasolini il pericolo principale da cui metteva in guardia negli anni 50 e 60. È stato l'intellettuale italiano che più di ogni altro ha criticato lo sviluppo economico e la conseguente trasformazione della società italiana da paese agricolo a potenza industriale. Nell'anno del massimo trionfo economico e produttivo dell'Italia del dopoguerra, ricordo che tra il 1960 e il 61 in due anni il pilo italiano cresce del 15%, Pasolini gira un film che parla di sbandati, di senza legge, di un'umanità ai margini dello sviluppo, ma che nella visione del regista è un'umanità ancora pura, non contaminata dai cambiamenti profondi antropologici prodotti dalla società capitalista, dalla società dei consumi che stava nascendo. Questa corsa al benessere inevitabilmente lasciava dietro di sé dei reietti che Pasolini identifica nel sottoproletariato urbano, nel mondo delle borgate di cui aveva parlato nei suoi romanzi. Il film è ambientato nella periferia di Roma, al Pigneto, al Prenestino e in tutto quel mondo delle borgate romane in cui dominava il degrado morale e materiale. Il centro di Roma appare di sfuggita. Non esiste la Roma capitale d'Italia, anzi non esiste proprio lo Stato italiano. Per i protagonisti l'unica manifestazione dello Stato è la polizia e il carcere. A pochi chilometri dai palazzi del potere esiste un mondo squallido fatto di miseria e di violenza. Il degrado è in questo film una realtà parallela e speculare al lusso della Roma della dolce vita di Fellini. I temi affrontati sono provocatori, la prostituzione, lo sfruttamento, il crimine. Pasolini attacca il conformismo e la morale comune attraverso la rappresentazione di una sottocultura basata sugli istinti. A Cattone non è solo violento e brutale ma è anche capace di tradire chiunque, le sue donne così come gli amici, fino ad arrivare a rubare la catenina del figlio. Non erano cose che all'epoca il cinema poteva mostrare senza una condanna esplicita, senza dare lezioni moralistiche. Invece Pasolini nel film non giudica questi personaggi, anzi il suo sguardo è talmente partecipe che i protagonisti ci ispirano simpatia. Pasolini è sempre stato critico verso la Chiesa Cattolica ma cerca di ritrovare nella vita degli ultimi l'essenza del messaggio cristiano. Per raffigurare il sacro nella vita di questi personaggi usa sia il piano figurativo che quello della colonna sonora con la musica di Bach che fa da sfondo alle vicende come vedremo più tardi. La sensibilità con cui raffigura le scene di vita miserabile ricorda la pittura sacra, sacro e profano si mescolano continuamente sia nei dialoghi sia nelle immagini. Anche qui come nella maggior parte dei film neorealisti il cast è formato in buona parte da attori non professionisti presi dalla strada dalle stesse borgatte che vediamo nel film. Ci si muove dunque nella scia del neorealismo ma con un'aderenza ancora più totale fra interpreti e personaggi a partire da Franco Citti che presta la sua faccia animalesca al protagonista. Il primo titolo pensato per il film non era Cattone ma era Stella e questo sottolinea l'importanza del personaggio interpretato da Franca Pasut, la ragazza semplice e ingenua che è talmente diversa da quel mondo da essere capace di far cambiare vita almeno per un attimo ad Cattone. Ma le donne nel film sono vere e proprie schiave. La donna sfruttata da Cattone, Maddalena, costretta a prostituirsi anche dopo che si è rotta una gamba in un incidente, sceglie di farsi incriminare per calunnia e falsa testimonianza pur di non coinvolgere a Cattone di cui è innamorata. L'altra possibilità che rimane alle donne è il ruolo di madri destinate a generare figli, ruolo che ritroviamo in Nannina, un personaggio che Pasolini fa interpretare paradossalmente ad Adele Cambria una delle rappresentanti storiche del femminismo in Italia. A Cattone è in lotta col mondo ma soprattutto è in lotta con la vita stessa. Pasolini ha scritto che la vita per questi personaggi è un obbligo che nasce dall'istinto di sopravvivenza e quindi l'unica vera libertà che resta per loro è quella di morire. La violenza e la crudeltà sono una condizione essenziale per sopravvivere e la morte è una costante del film, fin da subito ne costituisce il tema conduttore. Questa pulsione verso la morte domina il protagonista per tutto il film e culmina nella sequenza dell'incubo. Per curiosità ho voluto contare quanti riferimenti alla morte, diretti o indiretti, ci sono nel film. Sono arrivato a 74. Proprio per questo suo continuo mescolare e registrare alti e bassi, il tragico e la risata, il sacro e il prosaico, è nello stesso tempo uno dei film più amaramente divertenti della storia del cinema italiano. Uno dei maggiori punti di forza del film sono infatti i dialoghi. La vivacità dei dialoghi in romanesco, scritti con la supervisione di Sergio Citti, un vero esperto del gergo dei Borgatari, rende il film tuttora godibilissimo a distanza di 60 anni. Lo spirito cinico, disincantato che il film esprime attraverso i suoi personaggi si può far risalire fino ai sonetti del Belli. Pasolini, come ho detto, in qualche modo reinventa il linguaggio filmico, sperimenta nuove soluzioni di montaggio, usa stacchi bruschi, si libera delle convenzioni del linguaggio cinematografico. E un altro grande elemento di originalità del film è la fotografia. Tonino Dell'Icolli, che diventa poi il direttore della fotografia di capolavori come Il buono, il brutto e il cattivo, nel bianco e nero di questo film crea un'intensità drammatica in cui la ferocia delle situazioni viene espressa attraverso i bianchi bruciati, i contrasti duri con cui si riprendono i personaggi. Le strade assolate, l'atmosfera stagnante, mi fanno pensare ai paesaggi di un altro film italiano di cui vi ho parlato, uscito nello stesso anno, Divorzo Italiano, in cui allo stesso modo la luce estiva abbacinante sottolinea l'immobilità di una società arcaica in cui predominano violenza e brutalità. Infine, altro elemento originalissimo del film è l'uso della musica, che come ho detto è quasi sempre di Bach, a parte un paio di brani jazz. Quando Pasolini usa la passione secondo Matteo di Bach, la musica sacra più alta e solenne che sia mai stata composta, unisce una tensione profondamente spirituale a situazioni degradate con un effetto straordinario, rivoluzionario per l'epoca. E tutto il film come atto di accusa verso l'Italia del consumismo e dello sviluppo, in cui il protagonista trova solo nella morte il benessere, è un'opera rivoluzionaria, a mio avviso il miglior risultato del Pasolini regista, quello più dirompente nel panorama della società italiana. Non si può però parlare di Pasolini senza aprire un capitolo dedicato alla censura. Pasolini è stato il regista e in generale la personalità intellettuale più censurata del secondo novecento, non solo in Italia ma forse nel mondo. Si è trattato di un vero e proprio accanimento che è indicativo da un lato della retratezza culturale della società italiana, dall'altro dell'efficacia della critica di Pasolini alla società stessa. All'uscita di ogni suo film si scatena un fuoco incrociato di politici, magistrati, ufficiali delle forze dell'ordine, alti prelati e cittadini comuni che fanno di tutto per impedire al pubblico la visione dei film. Accattone, che doveva partecipare alla mostra del cinema di Venezia di quell'anno, viene subito escluso dalla competizione e proiettato fuori concorso. Dopodiché, il film, già tagliato in varie scene, appena esce in sala a Roma viene contestato con lanci di bottiglie di inchiostro, finocchi e petardi contro lo schermo. Il film viene ritirato dalla circolazione per ordine del Ministero dello Spettacolo e un politico democristiano fa causa chiedendo un risarcimento d'anni che Pasolini dovrà pagare. Il film torna poi nelle sale, ma la commissione di censura pone il divieto ai minori di 18 anni ed è il primo film nella storia del cinema italiano a essere vietato ai minori di 18. Fino ad allora al massimo esisteva il divieto per i minori di 16 anni. Non posso entrare nello specifico di tutte le battute che vengono tagliate dai dialoghi prima di ottenere il visto. Vi dico solo che, per esempio, si fa rimuovere la parola vergine, si fa rimuovere la parola mutandine, cose che farebbero ridere se non fosse che esisteva una commissione di persone pagate dallo Stato per decidere questi tagli e soprattutto che tuttora la censura continua ad esistere sotto altre forme, con altri nomi, ma continua ad esserci. Grazie a tutti, il prossimo video sarà su un altro grande e straordinario esordio nel mondo del cinema. Nel frattempo vi invito, come sempre, ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e a lasciare un like. A presto!